Mi... mi tiri via Depay quindi? Eh... l'obiettivo è quello Certo che sarebbe un bel colpaggio Ah vuoi dire che se vinco ti tiro via Depay? Sì, infatti non dovevo dirtelo perché in questo modo tu potresti fare l'infante Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale Ben trovati nel primo vero episodio di questa Winter Cup Perché si parte, siamo qui con un ospite Che è tra l'altro l'allenatore degli scalmanati Ovvero Camp Comunque siamo qui perché oggi siamo appunto pronti a giocare la prima giornata di questo torneo Inedito su Youtube perché comunque penso che sia inedito Nel senso tornei con il doppio commento ne ho visti pochi Anzi io non ne ho visti più, non so più Soprattutto con la doppia web Esatto, esatto Quindi speriamo che sia tutto molto carino La formazione comunque è stata in grafica che è la mia E la stessa che avete visto nel video di presentazione Non so se avete notato Forse sì, che dici Camp? L'hanno notato? Il tuo Depay anche Sì sì, adesso guardalo, 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 guardalo Eccolo lì Però allora Cioè questa Qualcuno A meno che non finisce 0-0 Qualcuno deve da un gridare qualcuno Allora Tutto noto per l'inizio Sarà una gran partita E' un gran torneo E quindi si parte No ma io poi non Non si può sbagliare Anche qua quest'anno Ok, Munir, mai usato prima Ecco, punto Mosegni Occhio Will Cross Rüdiger C'è Non ci credo Non ci credo DeFi 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 Vabbè io lo prometto Lo dico adesso Lo dico adesso Lo metterai di sicuro nel video Io se vinco Non faccio scattare DeFi A buon fede Perché è il suo marchio di fabbrica Quindi non potrò mai Piuttosto gli faccio Da un gridare Un giocatore di merda Comunque sono corretto Ma attenzione alla risposta adesso Con Salah Va dentro lui Salah per la risposta Con il destro Mohamed Per il pareggio Del Bomber Team 1-1 Pareggio immediato Partita incredibile E poi si ammatti E ricordo ragazzi Che noi possiamo Segnare quanto ci pare Ma conta la differenza Redi Non i colfatti E subiti per upgrade Ed upgrade Io l'ho detto Te l'ho detto anche l'altro giorno Ho paura del mio centrocampo Troppo squilibrato Dai Daier Daier Marziano Marziano Ovviamente ci sarà la classifica Capocannonieri Classifica Capocannonieri La voglio Piuttosto la faccio io Esatto La tua logica Di costruzione Della squadra È stata più o meno Metto De Pai Poi il resto Fa niente Tutti i FIFA Buono Memphis Ma chi Palla per Riccardi Sta partendo De Pai Riccardi qui a campo C'è anche Salah Riccardi può pensare Anche al destro Ma Colpisce malissimo Ok Ok Riccardi intanto Palla dentro Per vedere tutto Può inventare Ma mettere per De Pai Non ci credo Dimmi che è stata viata Ma come ha tirato Cioè piuttosto Comunque secondo me La cosa intelligente da fare Ad avere i soldi Era mettere tutti In forma In questa squadra Perché così Ti venivano Dangredati L'intesa E non andava Giusto È vero Perché poi mettevi Ragionacchè Ragionacchè Ma attenzione a Kondogbia Che si inserisce Kondogbia Per riprenderla Oddio Oddio Courtois Sì 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 Gli sportieri Si stanno facendo Abbastanza pronti Dai La grafica Ci ha costato Anche per him Esci Courtois Bravo Va qui Palla al limite Per vedere tutto Chiudilo Sul sinistro Contato Oddio Oddio Si è fomentato Si è fomentato Bene tutto E questo chi è Ma che cazzo Ne so Però attenzione Perché è cominciato Il secondo tempo Fantastico come Attacchi te Telecamacatua Attacco io Cambia subito la voce Uno sta zitto L'altro parla Si perché Il dimensione Oh Kondo Rubatissima Paolino Così capirai Paolino Muttalo dentro Mamma mia Che paura ragazzi Stiamo soffrendo tantissimo Allungate Dai E poi fai cagare Ti prego Tiramelo via dopo Va bene Ma però Sto a perdere Adesso Vediamo di metterci d'accordo Vabbè Vabbè Per me andrebbe bene Che c'era Te lo cuore Attenzione qui Oh attenzione qui Perinna Cosa ha preso L'ho presa No Si Ma dai Ma dai Ti ha fatto il miracolo Ma no Che cosa ha preso E cosa ha fatto DeFi Ma poi Cosa ha preso Ma è sotto stissima Attenzione ancora La risposta Con l'inserimento Di Salah Salah è passato Non ci credo Tio Però è decisivo Perché due miracoli Li ha fatti anche lui Mamma mia Meno male E ora DeFi Da qui deve metterla Sì ma vai sulla linea DeFi Mamma mia Ho detto Sì vai sulla linea Ma poi mi sono accorto Che effettivamente Sulla linea Non ci stavi Vabbè Guarda come te la metto No 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 Dai Io comunque C'ho un portiere fenomeno C'ho un portiere fenomeno Sì ma Perinde Quest'anno è illegale Ma dai però Ma io faccio un complimento E prende gol Ti prego Ma non è possibile Io comunque c'ho un portiere fenomeno Camp si prende Una vittoria importante Perché comunque Per lui è molto importante Potrà Upgrade Di tre punti Vari giocatori Dovremmo noi invece Tra questi undici Che vedete in grafica Downgrade Un giocatore di tre Overall E quindi è tosta Ma comunque Non è pesantissimo Nel senso che A lui conveniva Vincere in maniera così larga A lui comunque Una sconfitta Che pesa relativamente Perché Avremo tutto il tempo Avremo altre tredici partite Per Puntare Alla vittoria finale Comunque Una vittoria che ci sta Quella di Degli scalmanati E quindi Lascio la parola a Camp Allora Siccome È il primo episodio Sei strassimpatico E la cosa È qualcosa di Fantastico Perché Mi sono divertito un sacco A registrare questo video Grazie Depay Non te lo posso toccare A prescindere Per in Non te lo tocco Perché appunto Ti tirerei via L'unico forte L'unico giocatore E quindi Siccome Devo aiutarmi Un pochino nel torneo Ma non sono neanche Così stronzo Decido di Downgradare un difensore Ok Ti lascio la scelta Tra Rudiger E Rougain Non ti dico il nome Scegli te adesso Così almeno lo sanno Già subito Scegli te Scelgo Lugani Scelgo Lugani Che dovrà diventare Un 75 Quindi difensore centrale Italiano Metataria Con 75 A posto Io il mio dovere L'ho fatto A posto Quindi ragazzi Io chiaramente Vi invito a passare Dal canale del Bomber Camp Che ci ha uccisi Veramente Ci ha ammazzati In questa prima giornata Dopo Dopo Mi deve dare i soldi Per aver fatto Questa figura di me Esatto Ma comunque Passate al suo canale Trovate in descrizione Ricordo domani Di passare Dal canale Di Adesso lo cerco Aspetta Bella FIFA Che giocherà in casa Contro SIC Quindi signori Siamo arrivati a termine Di questo video Settimana prossima Giocherò Come abbiamo già detto Domenica Sul canale di Andrew Di noi amanti di foot Quindi la partita Non sarà presente Su questo canale Su questo canale Ci vediamo Tra due settimane Lascio salutare a Camp E vi do appuntamento Con i prossimi video Io invece ragazzi Non ho idea Di come si è fatto Il calendario Non so dove giocherò Settimana prossima Penso in casa Ma non so Contro chi Te lo dico Sì Gioca in casa Contro bella FIFA A posto Perfetto E niente ragazzi Il link al mio canale Sotto in descrizione Non voglio spammare Più di tanto Spero che il video Vi sia piaciuto E saluto Fede Lo ringrazio Perché appunto È venuto fuori Un video epico E ci si becca Al ritorno Bomber Assolutamente Ci vediamo sul tuo canale Tra esattamente un girone A presto